Un caro saluto da Diego Fusaro, un caro saluto a tutti. Avete sentito certamente dell'ultimo attacco di Israele, un attacco che ha prodotto purtroppo nuove vittime, una vicenda surreale che tra l'altro avviene a pochi giorni da quando la procura dell'AIA ha dichiarato la necessità di arrestare Netanyahu, ebbene Israele non si ferma e continua con le sue politiche imperialistiche. Quello che più stupisce e su cui porto ora la vostra attenzione è che Netanyahu è intervenuto dicendo che si tratta di un tragico errore. Sì, l'uccisione di moltissime persone viene da Israele, o più precisamente da Netanyahu, qualificata e liquidata come un tragico errore. Insomma, le bombe dell'Occidente imperialistico statunitense ed Israele, quando ci sono e quando uccidono civili, sono sempre semplici danni collaterali, tragici errori, effetti indesiderati. Non si dice mai quello che andrebbe detto, e cioè il fatto che sono bombe imperialistiche che uccidono i civili. Anche questo fa parte della narrazione orwelliana dell'ordine discorsivo imperialistico che squalifica come maligno tutto ciò che non viene fatto dall'Occidente, invece assolve per partito preso e aprioricamente tutto ciò che fa l'Occidente, anche le azioni più nefande e più criminali, sempre giustificandoli come appunto tragici errori, danni collaterali o effetti indesiderati. Vi è davvero di che riflettere seriamente.